Invece quale è la condizione ideale di poter fare un movimento sinfonico? A ogni istante rendersi conto da dove viene e dove va. Sono qui, è troppo, frena, spingi questo, non ti lascia spingere da quello, ancora un po', gira, attenzione, di più, monta, quello non monta abbastanza, su, 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 lei, lì, tutti, tutti insieme, picchia, boom, espansione massimale e via. Come si va via così? Quindi è un'evoluzione non spiegabile con parole. Voi non avete la possibilità, è l'unica medicina che io lo dico sempre ai miei amici e ai miei allievi, bisogna vivere insieme, sentire delle prove, vedere la differenza. E man mano che si fa, arrivare a quella saggezza incredibile e comprensione, direi, metafisica, esoterica, che non facciamo noi interpreti della musica, la musica si fa a un certo momento, si le lascia tutto dentro, come è pensato da quell'ideatore, si fa da sola.